musica maestro sono stato anch'io bambino e mio padre è innamorato la sua figlia è sganchierata ero provata di spezzarlo ma non ci sono mai riuscita ci vorrebbe un'altra vita la pazienza delle donne incomincia a quell'età quando nascono in famiglia quelle meta-ostilità e ti attiri dentro a un cinema e sognare di andare via con il primo che ti capita o che ti dice una buzia gli uomini non cambiano fanno i soldi per comprarti e poi diventano da soli i uomini ti uccidano non cambiano non cambiano ma fai che gli uomini che ne accorder sono fichi da me donne Ma non sono come noi Sono quasi un ideale che non c'è Sono quelli innamorati come te Sei bellissima Sei bellissima Ho cercato l'amore Ti stavo a guardare Sei bellissima Sei bellissima Ho cercato l'amore Ti stavo a guardare Sei bellissima Sei bellissima Ho cercato l'amore Ti stavo a guardare Sei bellissima Sei bellissima Ho cercato l'amore Ti stavo a guardare 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 Sei bellissima Sei bellissima Ho cercato l'amore Ti stavo a guardare Sei bellissima 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 Ti stavo a guardare Non è essere gelotto Perché con gli altri Madettle Street Non è fare pul Bravo Per chi cui piace un Paolo Con te Con te Con te Che sta la mia passione io valo Eu valo del matrone Non essere geloso, che con gli altri ballo, non essere furioso, che con gli altri ballo, con te, con te, con te, che sia la mia passione, io ballo, il ballo di un matone. Non essere geloso, che con gli altri ballo, non essere furioso, che con gli altri ballo, con te, con te, con te, che sia la mia passione, io ballo, il ballo di un matone. Non essere geloso, che con gli altri ballo, non essere furioso, che con gli altri ballo, con te, con te, che sia la mia passione, io ballo, il ballo di un matone. Non essere geloso, che con gli altri ballo, non essere geloso, che con gli altri ballo, non essere furioso, che con gli altri ballo, con te, con te, che sia la mia passione, io ballo, il ballo di un matone. con te, con te, con te, che te lo mi piu spionne, io ballo, e il ballo da Madone. Non è stata l'accelosso con gli altri ballosrock, non è stato niente con un altro ballosprint, con te, con te, con te che è solo mia passione, mio ballo, il ballo del matone. Grazie ragazzi, grazie a tutti, saluto la splendida Alba Pagnetti, mia amica su Facebook, e poi, e non solo, e poi il bellissimo Canter Galco, che da settembre farà il nostro Valentino, in un bacio a me, a Gabel, un bacio da settembre, ciao Gabel, mio amico su Facebook, su Twitter, e non solo, e ciao. E poi, il terzo mito, me stesso, perché da settembre, farò fuori, e le faccio ancora, le faccio già, ciao ragazzi, uuuuh, bebe, segate in questa mente, scusa, eh, come non si, eh, andiamo su, forza, pubblico, vi voglio sentire ragazzi, eh, vi voglio sentire, urlare, dovete urlare, di solito questa frase, me la dice, il mio uomo, quando viene a letto con me, tesoro, ma stavolta, la voglio dire, al pubblico, voglio sentire il mio urlare, ragazzi, voglio sentire il mio urlare, forza, benvenuti a Festival Bar, ad una nuova edizione del Festival Bar, non conduce a Medellica Bancucci, ma ci siamo quasi, eh, sono la nuova Federica, eh, ci vediamo a mattina 5, vogliamo vederti a mattina 5, eh, vediamoci a settembre, e concluderò un programma, da titolo cuore, sui sentimenti, eh, ci vuole, eh, questa crisi, e dai, su, che bello, che bello, a mattina 5, non mi accade, sono Federica, agli autori scattano, dovete seguire agli miei autori, che sono matti, mi scrivono di tutti i colori, guarda, e io, naturalmente, sono molto contenta, eh, perché conduco il Festival Bar, conduco il mattino 5, ragazzi, a tutti, è un programma sui sentimenti da settembre, che è scritto da cuore, è scritto da me, e dal foto Signorini, non va a cercare di ragazzi, veramente, non mi avete molta contenta, ma ci vediamo a mattina 5, eh, non mancate, a volte che alle 6, no, alle 6 no, perché io mi sono mattina, a mattina 5 mi serve stare, dalle 8.40, e poi le 8.30, mi mette però, c'è il televisore, diciamo, vestiti, vedete un po' come volete, e da settembre, tutte le mattine, mattina 5, cioè, come dici, a me, di tutto, andate via, sarò io, e ci sarà tutto il caso, ci, 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 mi siancheranno qualcuno, insomma, un co-conduttore, faccato, la mia maschera di bellezza sta andando a schifio, ragazzi, come diventare più bella nel settembre, un saluto da Viglianica Pagucci, ragazzi, oh, buona sera, certo, io sono Viglianica Pagucci, e sono Valeria Marini, e più spenga che vuoi, certo, io sono Valeria, e perché sono stupenda, e al mio giorno dovevo fare un appello a Silvia Tuffalin, e perché lei, io sono Valeria Marini, e perché si possa sintonizzare con questo momento, cioè, io sono Valeria Marini, va bene, sono la Valeria Nacionale, e perché sono molto amata, sono Valeria, va bene, adesso non mi sono spostata, su YouTube girano video, perché, cioè, dicono che mi sono spostata, in realtà non mi sono spostata, per cazzo, mamma mia, c'è, ho centrato i ventilatori, va bene, io non ho, sono single, capito, io sono starda, cioè, io sono Valeria Marini, e sono fantastica, va bene, ho fatto il bagazzino, cioè, ho lavorato con Pazzoni Griffi, e che cazzo, cioè, mica sono una spinta e qualsiasi, cioè, io sono una profezionista, ho tre anni di carriera, capito, cioè, sono Valeria, guarda che svitico, cioè, ho delle cosce, sono dimagrante, piano piano, che cazzo, voglio dire, cioè, io me lo posso dire in diretta, dopo 30 anni di carriera, sono Valeria Marini, ok, ragazzo, non scherziamo, cioè, voglio dire alla Tuffanina, cioè, io sono stata ospita alla Tuffanina, e dice, sì, per me è stata malaverissima qualche mese fa, e allora, voglio le scuse in diretta, va bene, e poi volevo salutare Cicchipane, Cicchicori, e tutti quanti, sì. Allora, ci siamo incontriati a Mocchestazzino, con Cicchipane, perché lui è strozza, quindi va qui in locale, cioè, di Froci, ora sono etero, sono unicone gay, c'è, vado con i Froci, Mocchestazzina, e ora vado a The Village, cioè, stasera vado, ma sono in diretta qui. Ciao, io vi saluto, un bacio, ciao, un bacio dalla vostra Valeria Marini, Cicchipane, cioè, digitate, il mio amico Rosario Muniz, Rosario Muniz, su YouTube, cioè, perché io sono Valeria, e sono bellissima, e sono storda, cioè, come la Marini, come la mia collega, come la Prati, eh, Valko Cast, e Valeria Scannu, e sono storda, perché sono la Marini, ma non è vero, avete fatto abbronzatissimi, dove ero piazza, quasi, adesso c'ho due tettone, ma sono tutta naturale, capito? No, spiazza, sono abbronzatissimi, quando l'ho fatta, ciao, ero fantastica, ero tettona, adesso sono super mega tettona, va bene, grazie, noi ci salutiamo, ciao, un bacio, ciao, la vostra Valeria Marini è tutto, va bene, cazzo, ciao, io sono Valeria Marini, che chi non ci crede va a far culo, va bene, ciao, mi avete rotto il cazzo, ciao, io sono una perfezionista, va bene, ciao, la vogliamo finire? Ok, c'è chi non? Batta, ciao, l'Italusica è ancora, c'è l'Italusica, perché abbiamo avuto lo stesso uomo, c'è, ok, cazzo, io sono fantastica, perché sono Valeria Marini, ma che cazzo, ma lo ripeto, va bene.